Io voglio dirti che non ci sei solo tu, che una delle cose importanti che successe è quello che si sta facendo sull'eutanasia, che persino nel mio piccolo sono persino importanti in quello che faccio io, porco di un Dio! Quindi non è che c'è solo la finanziaria, non è che ci sono solo i volenterosi, quello che non c'è e di cui saremo qui riuniti per discutere è come rimettere in moto, poiché ognuno di noi sta facendo cose altre degrege, uno strumento di un corpo politico che rilanci, ma senza...